Clic! Ben ritrovati i miei cari eventori dell'Usona Barcaccio, parliamo di Bologna e di chi altro altrimenti. Allora, notizie sparse dal mondo rosso-blu. Cominciamo col dire che Gerdi Scouten si è finalmente rivisto in quel di Casteldebole, si è allenato in parte con i compagni e quindi proprio all'indomani, anzi nello stesso giorno della firma di Benito Nicola Sviolo, ossia, per chi se lo fosse perso, il nuovo rinforzo da parte del nostro Bologna per quanto riguarda il centrocampo, tesserato a che si dice di quel che se ne dice per un anno, quindi contratto di un anno più opzione però per il secondo, ok, che non è dato ancora bene da stabilire con quale maniere appunto scatti l'opzione, se è legata ad un minimo di presenze, se è legata a una indiscrezione completa da parte degli uomini dirigenziali del Bologna, questo non c'è dato sapere ma lo scopriremo Cammin facendo come sempre. Fatto sta che ha firmato un contratto annuale con l'opzione per il secondo alla cifra di 250.000 euro, pertanto Nicolas Benito Viola è ora a tutti gli effetti, visto che è stato ufficializzato ieri sera intorno alle 20, un giocatore del Bologna e proprio nella stessa giornata Scouten è tornato ad allenarsi perché, dico questo, perché Viola è stato si tesserato per l'infortunio corso soprattutto a Kingsley in quanto starà fuori per buona parte del resto della stagione, ma anche perché c'erano dubbi sopra lo stato fisico di Gerdi Scouten. Comunque Viola è un giocatore che numericamente ci serviva anche qualora Kingsley fosse poi stato arruolato e arruolabile, poiché già durante l'estate se ne parlava di un bisogno di un rinforzo in più per il centrocampo. Pertanto una volta che Kingsley è fuori dei giochi completamente, la società ha dovuto aprire il portafoglio, e ha fatto quello che non avrebbe voluto fare, cioè tesserare un nuovo giocatore. Si è vista quindi costretto a farlo? Probabilmente, io penso, credo e spero, mi auguro anche, sollecitati da Sinisha Mielovic che abbia fatto intendere e capire loro, che necessitava quindi di avere a disposizione una soluzione in più, e tale soluzione appunto è arrivata con Viola. Viola che era conteso da più squadre, perché ho letto non solamente la Salernitana, ma c'era su di lui anche l'Udinese, anche l'Udinese e una quarta squadra insieme al Bologna ovviamente, che adesso mi sfugge, ma era ambito da più squadre, tutte di Serie A, da quel che ne ho memoria, e Viola avrebbe scelto il Bologna. Quindi Viola ci ha scelto, noi abbiamo scelto loro, vedremo se questo matrimonio saprà da fare, se sarà bello, ok? Profumato di mandarino. Ok, bene, questa detta, lo scauto indetto, Dominguez è in dubbio, quindi per due buone notizie, diciamo così, c'è una notizia che non è tanto buona, nel senso che Dominguez ha avuto un affaticamento in allenamento e pertanto adesso sarebbe in dubbio per la sfida di sabato, poiché il Bologna gioca sabato sera con il Milan e quindi oggi, essendo giovedì, ha, diciamo, due giornate per recuperare da questo affaticamento. Oddio, secondo me sarà cosa fattibile possibile e auspicabile, anche perché Dominguez sta entrando a tutti gli effetti, secondo me, nei meccanismi di questo nuovo modulo e sta quasi diventando, secondo me, uno di quei giocatori imprescindibili per questo Bologna. Quindi, laddove ci sia margine, il Bologna cercherà in tutti i modi di recuperarlo, ovviamente, non si crogiolerà dal fatto che è arrivato Benito e Nicolas Viola, anche perché, vorrei sottolineare, come il ragazzo, comunque, sì, carriera alla mano, ha dei numeri che possono essere interessanti, questo fuori di dubbio, ma vorrei anche sottolineare come il giocatore, comunque, sia da dei mesi svincolato e io penso, per quanto sicuramente sarà un professionista tutto tondo e non lo voglio mettere in dubbio, sia allenato in questo periodo, però, insomma, gli manca un po' il clima partite, il ritmo nelle gambe e è auspicabile, appunto, che Dominguez recuperi e non divederi subito, appunto, all'opera questo nuovo baldo giovine, si fa per dire, di Viola. Quindi, stringiamoci tutti attorno al fatto che Dominguez possa recuperare col Milan, perché col Milan sarà una partita, una partita bella, bella tosta. Quindi, attenzione, perché il Milan arriverà, tra l'altro, che si lecca le ferite per l'ennesima sconfitta rimediata in Champions League con il Porto, per l'appunto, e vorrà sicuramente tornare alla vittoria in campionato. Nonostante ci sono parecchie defezioni anche nel pianeta rosso-nero del Milan, in quanto verranno a mancare i due affetti da Covid, ossia parliamo di Diaz e Teo Hernandez, o perlomeno non dovessero recuperare, come io penso, non ce la faranno, appunto, risultare negativi per sabato, appunto, quei due giocatori lì mancheranno. Mancherà Magnane, che è il portiere, che non è poca roba, anche perché i sostituti, comunque il sostituto, che dovrebbe essere Tatarussano, non è certamente a quei livelli. Ibrahimovi c'è ancora a mezzo servizio, e quindi andrà capito se partirà lui dal primo, come alcune testate danno il grande ritorno di Ibrahimovi dal primo minuto, o ci sarà Giroud, ma comunque sia che sia l'uno, sia che sia l'altro, sarà Staffetta. E anche, ho letto, appunto, altre defezioni che adesso non mi sovvengono, ma dei dubbi di formazioni che potrebbero favorire delle seconde linee che ad oggi hanno giocato poco, come ad esempio Castiglieco al posto di Selemakers. E Maldini, Daniel Maldini, al posto di Krunic. Vedremo, comunque sarà un Milan che non sarà quello più bello dal punto di vista di formazione dell'undici tipo, e il Milan, venendo a giocare per l'appunto al Dallara, a Bologna, e il Bologna, questo inizio di stagione, ha fatto del Dallara il suo fortino, in quanto per ora quattro partite giocate, tre vittorie e un pareggio che doveva essere una vittoria. Se gli Astri, appunto, ci fossero stati favorevoli, quindi avremmo potuto recitare quattro su quattro, ma nei fatti è quattro su tre, ma comunque siamo imbattuti, ancora, e tocchiamoci le balle di rimanerci anche dopo sabato, il Milan, secondo me, non avrà gioco facilissimo qui a Bologna, e voglio augurarmi, ovviamente, che Mijalvic continua a perseverare contro il Milan più che mai con il 3-4-1-2, che tanto bene ci sta mostrando di far vedere. E anche Luis Binx dà fiducia, perché l'esordio che ha fatto con l'Udinese fa sperare e fa credere che Luis Binx possa essere insieme ad Arthur Teate una sorpresa. Arthur Teate mi viene quasi già da dire che è quasi già una certezza, cioè se al centrocampo abbiamo di imprescindibile Dominguez che secondo me nel pacchetto dei centrocampisti ad oggi è quello che sta maturando se vogliamo in maniera inaspettata perché viste la prima stagione e mezza non è che facesse intendere perché era fuori ruolo per tutta una serie di questioni perché Mijalvic non gli dava mai diciamo troppa continuità. adesso sta avendo finalmente continuità che è quello che serviva al giocatore e se Dominguez è imprescindibile al centro in difesa secondo me sta diventando imprescindibile Teate e chissà che con Luis Binx non si trovino due terzi di difesa che ad inizio anno magari erano inattesi e inaspettati quindi speriamo in questo speriamo di trovare delle altre certezze ok contro il Milan e soprattutto speriamo di proseguire su quella strada che possa farci ottenere dei risultati prestigiosi perché solamente attraverso risultati pregevoli ok se vogliamo anche non dico inattesi perché sinceramente io quando gioco in casa io voglio dal dall'ara una squadra coi coglioni e non ci devono essere compagini che ci debbano fare paura e sì arriva il Milan per carità assoluto rispetto per la compagine rossonera ma non paura perché noi dobbiamo sapere che abbiamo secondo me nelle nostre corde la possibilità di poter fare male al Milan ora tra l'altro più che mai che vengono dalle fatiche di coppa e che quindi molti giocatori saranno comunque a corto di ossigeno saranno affaticati ok per il triplo impegno che li aspetterà e contro il Bologna ripeto al dall'ara abbiamo l'opportunità la possibilità di fare bene e io ci credo quindi amrachmand miei cari giocatori voi stessi avventori ok crediamoci ok perché non ci saranno scusanti altrimenti laddove si dovesse vedere un Bologna a naspare come spesso ci è capitato sotto l'egemonia sotto la guida di Sinisiamia e Lovic contro le grandi non sarà permesso e concesso vedere una debacle ok voglio vedere un Bologna gagliardo perché possiamo ok si può fatemi vedere se ci sono altre notizie vabbè queste magari ne parliamo in un altro video a parte sapete che su Ikei e Dominguez sono arrivati come degli avvoltoi gli occhi dalla Premier e dalla Liga Spagnola in quanto Ikei è chiacchierato appunto nella Premier perché sarebbe interessati Villans ossia l'Aston Villa che io in precedenza avevo detto se vi ricordate ad agosto simpaticamente perché l'Aston Villa dopo aver venduto a peso d'oro il loro centrocampista al Manchester City non si fiondano su su Musabaro e hanno trovato che esiste la società Bologna Football Club e si starebbero molto interessando ad Aaron Ikei così come Dominguez è osservato speciale dall'Atletico Madrid di Ciolo Simeone si parla addirittura di possibile aggancio a gennaio di queste squadre io ci credo poco anzi ci voglio proprio credere poco perché vendere gennaio sarebbe veramente una bruttissima pagina che si scriverebbe ai danni di questa dirigenza della sua serietà e credibilità semmai rimandato a in estate e semmai e semmai perché perdonatemi Dominguez l'abbiamo pagato un polmone Ikei l'abbiamo appena preso se è il progetto di comprare addirittura Ikei che all'epoca aveva 17 anni 18 e lo vendiamo neanche che ne ha 20 perdonatemi ci sarebbe qual quadra che non cosa comunque torniamo a noi fatemi sapermi cari eventori che cosa ne pensate di tutte queste notizie che vi ho appena regalato ok attivate il campanaccio pastorale prima ne è sempre aggiornato qui all'uso da barcaccio di nuovi video e noi ci sentiamo alle prossime chiacca ciao 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 ciao